presentiamo una figura storica dell'orienteering italiano nome e cognome Stefano Galletti milanese da quanti anni speaker dell'orienteering dal 2004 per caso poi da lì è stato un crescendo quanti eventi segui in un anno in un anno siamo quasi a quota 25 30 dipende se ci sono edizioni del campionato mondiale questo è stato di Siena il 201esimo ieri a San Gimignano festeggiato il 200esimo evento come speaker qual è il più grande campione che ti è mai capitato di incontrare ovviamente parliamo di orienteering beh il più grande campione che conosco ma si mantiene sempre un po sulle sue non può che essere Thierry Georgiou il mattino presto sopra luoghi alle gare perché perché lo speaker sostanzialmente non vede gran parte del svolgimento della gara di orienteering quindi deve sapere almeno io voglio sapere dove gli atleti potranno trovare le migliori insidie dove potranno trovare i maggiori punti per fare o meno la differenza e questo lo può fare soltanto un altro atleta come me che va nel bosco nelle stesse condizioni in cui vanno gli atleti sono lieto di far parte di questa famiglia sono lieto di poter offrire agli orientisti una visione diversa della gara visto che molto spesso noi gli atleti non li vediamo e sono contento così sono molto contento così